Amiche e amici ben ritrovati, come state un saluto a tutti, una buona serata ormai da Milanello, la casa dei milanissi su YouTube. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like se ti fate la prima squadra di Milano e iscrivetevi qui numerosissimi attivando la campanella se lo avete ancora fatto. Qui sotto nei link di descrizione c'è anche il mio canale personale Andrea Longoni Calcio in cui paro con breaking news di calcio, soprattutto di Milano. Mi raccomando iscrivetevi numerosissimi, anche lì che non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. E poi, che dire, per collaborazioni commerciali con Milanello, la mail è milanellolive.com milan, h-e-l-l-o, live, chiocciolagmail.com Se volete promuovere un'idea, un prodotto, un marchio, un'azienda, una pagina o un canale. Allora ragazzi, l'avete visto il video di questa mattina con Luca, il critico calcistico? Ci tengo tanto, perché merita davvero, davvero guai, 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 guai non vederlo. È molto interessante, così come il video precedente in cui vi ho dato dei dati che mi hanno lasciato a bocca aperta su Raffa Leao e Christian Pulisic in chiave derby con un'evidenza clamorosa di differenze. Nel frattempo ragazzi, ripartiamo in questo video con un po' di novità, approfondimenti, sviluppi. Intanto c'è il tema stadio, il tema stadio dal quale dipende il nostro futuro. Ne avete, diciamo così, le tasche piene di questa proprietà, non vi piace a livello comunicativo, vedo che anche altri se ne stanno accorgendo forse, o finalmente dicono che certe cose non vanno bene. Ecco, il tema stadio è quello che poi dovete tifare. Facciamo lo stadio. Svolta stadio, scrivete, svolta stadio, punto esclamativo, come appello, come auspicio. Ebbene, ieri sera, la notizia della cancellazione della sede Milano-San Siro per la finale di Champions del 2027 ha fatto male, diciamo così, agli italiani, all'Italia, a chi vive a Milano ovviamente a maggior ragione, perché è un'occasione persa. E' stata cancellata la destinazione della finale, perché il Comune di Milano non dà garanzie sullo stadio. Quindi non garantisce, non può garantire, che nel 2027 lo stadio non sarà oggetto di ristrutturazione, che sarà, non può garantire che sarà utilizzabile al top, che non ci siano dei lavori. E questo sicuramente fa male e dispiace, fa sorgere spontanee due riflessioni. La prima è a molto amara, che se non ci fosse stato tutto questo ostracismo del Comune sul tema stadio, nel 2027 avrebbe potuto ospitare la finale di Champions del 2027 il nuovo stadio. E quindi non avremmo perso come Milano questa possibilità. La seconda riflessione è che, sapendo che la ristrutturazione è stata bocciata dai due club e non si farà di San Siro, il fatto che il Comune comunque non garantisca che ci possa essere piena disponibilità totale dello stadio deriva dal fatto che, se fai il nuovo stadio di fianco, non puoi permetterti di fare la finale lì, visto che ci sono dei lavori, dei cantieri e magari anche la necessità di rivedere un po' San Siro sempre che rimanga in piedi. Quindi, nell'ammarezza di aver perso vicino a casa la finale di Champions, ora potrebbe essere Roma, ma c'è comunque l'ennesima prova del fatto che il Comune si aspetta che Milano e Inter facciano stadio lì, altrimenti, sì, è stata cancellata, ma è anche una sorta di, indirettamente, una sorta di rinuncia. Perché io dico, se ti do garanzia lì, non possiamo portare avanti lo stadio con Milano e Inter. Quindi, portiamo avanti lo stadio con Milano e Inter, pur perdendo questa candidatura. Quindi, nella brutta notizia, è comunque una bella notizia in più della volontà davvero di andare a cooperare per una soluzione che, per noi, tifosi rossoneri, è di vitale importanza, cioè lo stadio. Stadio non realizzato, burocrazia completata, cardinale, gom, come direbbe qualcuno. A proposito di cardinale, volevo leggervi il pensiero del mio direttore, molto diretto, ecco, perché delle volte, dico su cardinale, ogni tanto mi faccio le domande, ma non è che sono prevenuto, non è che sono troppo coinvolto, magari certe cose che sono grigie le vedo nere. Ecco, il mio direttore ha scritto Il discorso di cardinale su Milan, stadi, tifosi e importanza di vincere è quanto di più confuso e inconcludente io abbia mai letto da parte del proprietario di club calcistico. Questo è il mio direttore che dice quindi Ma che caspita sta dicendo? E che cosa voleva dire? Non si capisce nulla e quello che si capisce comunque è confuso e inconcludente. Ieri, in riunione di redazione, come ne ho parlato qui, sottoponevo ai colleghi il caso di Friedkin che nel comunicato dell'altro ieri dice Tifosi siete l'anima della società, faremo di tutto per rendervi orgogliosi. Il cardinale, invece, riesce sempre a avere inciampi, da un punto di vista comunicativo, e non solo, clamorosi. Questo è un pensiero molto netto e duro ma terribilmente aderente alla realtà. Poi, ragazzi, ho fatto un accenno sul mio canale personale se avete ancora visto potete vederlo, comunque ne parliamo adesso con ulteriori sviluppi perché, nel frattempo, io sto maturando un'idea. È l'inizio, però siamo già a 5-6 partite. 5-6 partite, la stagione che ne avrà 50, sarà un decimo, un nono, un decimo della stagione che dobbiamo fare. Quindi siamo soltanto a un piccolo spicchio. Però abbiamo già tante cose da analizzare. La fase difensiva della Juve che è top ma la Juve che fa fatica in attacco è l'Inter stessa, ha segnato su un dato Turam e gli altri non stanno segnando a bocce ferme. Io, quando è stato completato il mercato, ho detto per me in attacco siamo molto più forti dello scorso anno. Io in attacco mi sento molto tranquillo. Meno a centrocampo e in altre reparti. Ecco, a bocce ferme. Del Milan a oggi, puoi dire te beh, siamo all'inizio, sì, ma allora facciamo il video a maggio. Facciamo oggi, che è il 25 settembre. Augure che compie gli anni oggi. Noi abbiamo portato in gol Leao Okafor Morata Ebram Pulidic Manca gli atti ciucquezze e beh, è Jovic che non ha mai giocato a parte l'inizio. Quindi abbiamo già diversi attaccanti che hanno portato il loro nome sul tabellino. La mia tesi che sto sviluppando che non è sentenza non è definitiva ma è una mia tesi per certi versi clamorosa chi l'avrebbe mai detto fino a due mesi fa è che forse il Milan abbia il reparto offensivo migliore in Italia. Alt piano piano con i messaggi con i commenti contro aspettate la Juventus ha Vlaovic che è criticato dallo stesso ambiente che è potenzialmente fortissimo ma non riesce mai a convincere a pieno l'alternativa è Milik che è sempre rotto nel quale non credevano. poi ha Nico González Barrauea a Ildiz con Seisao Cubmeiners però sinceramente secondo me il Milan è superiore il Napoli anche il Napoli ha degli ottimi giocatori sugli esterni su tutti i Varascheia poi ha Lukaku però io mi tengo all'attacco del Milan l'Inter gioca con un modulo diverso ha Lautaro che è fortissimo ma nelle ultime 15 partite ha fatto solo un gol per me però come attaccante il più forte che ci sia poi ha Turam che sta facendo molto bene e Taremi che al momento non ha segnato comunque le sue presenze le ha fatte poi dietro Arnautovic Correa loro dicono non possono circolare allora io penso che come completezza il Milan abbia davvero un reparto meglio allestito e sapete che non sono uno che fa complimenti facilmente gratuiti soprattutto soprattutto questa società comunque Pulisic è dietro ai Ciucquezze che deve ingranare Leao che si è svolta è fortissimo per me se Leao svolta è il giocatore più forte della Serie A si è svolta e poi comunque Okafor che quando gioca spesso segna si è mangiato il gol l'altro giorno altrimenti avrebbe una media gol ancora migliore poi 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 Ebram che se sta bene ha dimostrato il primo anno in Serie A di fare 17 gol più 9 in conference cioè può essere il canoniere del Milan detto che oggi il canoniere del Milan è Pulisic che ha avuto un inizio strepitoso e poi Morata che è un giocatore dall'esperienza indiscutibile che non farà magari 20 gol ma te ne può fare 13-14 che aggiunti magari 15 di Morata fanno tanto poi nel caso c'è Jovic che comunque non credo che giocherà io credo che un po' a sorpresa sì è una sorpresa è una grande sorpresa è una grandissima sorpresa il Milan abbia l'attacco migliore di tutti pur non avendo l'attaccante puntero da 25-30 gol che è Lautaro chi può esserlo? Ebram può essere quel tipo di attaccante che però non credo arriverà a certe cifre neanche a 20 secondo me in serie A cioè più o meno ne fa 17 magari neanche a 17 perché si alternerà molto con Morata io non credo che giocheranno sempre i due insieme perché poi ti mancano le alternative però l'insieme può fare davvero molto e quindi se poi non andiamo a toccare nulla ecco l'idea di una costruzione della costruzione di una squadra che per noi deve essere fortissima in ogni reparto forse là davanti il prossimo anno potremmo essere a posto è vero che non voglio pensare già al prossimo anno però sono soddisfatto quest'anno dell'attacco si faceva male il giro cosa facevi quest'anno si fa male uno hai l'altro si fa male hai l'altro quindi molto bene una grande sorpresa per il resto però va detto e anche nel video di questa mattina con Luca il critico calcistico eravamo molto d'accordo lo stesso non si può dire del centrocampo e poi anche della difesa sul ruolo del terzino dovevamo quel calulo lì che quindi attacco molto bene bisogna concentrarsi poi sul resto ovviamente poi bisogna aspettare il mercato di gennaio credo per un centrocampista oltre a questo c'è anche i problemi di Ben Asser però però vi ricordate quando c'era il periodo che non la buttavamo mai dentro avevamo quel senso di quasi mamma mia non riusciamo mai a fare gol questa cosa qui credo che non l'avremo più non soltanto per atteggiamento come lo scorso anno che era un Milano offensivo ma anche perché abbiamo giocatori forti là davanti Pulisic per me è fortissimo Leao per me è fortissimo anche se ogni tanto non lo fa vedere Abram e Morata sono forti e potrebbero essere anche molto forti è una mia considerazione pazza o vi ritrovate in quello che sto dicendo scrivetemelo qui sotto nei commenti e ragazzi due cose il video di precedente e il video di questa mattina ve lo faccio vedere tra poco in sovrappressione con Luca ditemi se vi è piaciuta anche come collaborazione iscrivetevi anche al suo canale e iscrivetevi al mio canale di Breaking News lasciate un bel like commentate numerosi ditemi di Cardinale del tema stadio amarezza però sotto sotto c'è qualcosa di interessante secondo me e poi il tema legato al nostro attacco che potrebbe essere a regime un super attacco se stanno tutti bene e se qualcuno svolta ogni riferimento a Rafa Leao è puramente non casuale un abbraccione buona continuazione un abbraccio a tutti ciao ciao forza Milan oggi più che mai domani ancora di più e tu che non ti sei ancora iscritto iscriviti ciao ciao